Si allarga la guerra diplomatica scoppiata dopo l'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex spia Sergei Skripal e della figlia. Sono un centinaio infatti i diplomatici russi espulsi tra Stati Uniti e Unione Europea per solidarietà con la Gran Bretagna. La Casa Bianca ha deciso di allontanare nel 60 dalle sedi diplomatiche americane. 14 gli stati europei che hanno preso simili provvedimenti e altre espulsioni, fa sapere il presidente del Consiglio Europeo Tusk, potrebbero avvenire a breve. Al fronte dei paesi occidentali si è unita anche l'Australia che in solidarietà con la Gran Bretagna ha ordinato l'espulsione entro una settimana di due funzionari che ritiene essere agenti dell'intelligence. La Turchia invece ha ribadito l'alleanza con la Russia. Mosca che nega responsabilità nell'omicidio di Skripal ha avvertito che risponderà con misure speculare di rappresaglia alla ritorsione dei paesi occidentali. Soddisfatta Londra, per la premia britannica May le espulsioni sono una risposta alla minaccia che Mosca pone alla sicurezza di tutti. La Russia fa sapere che Londra non può violare impunemente le norme internazionali. Al fronte dei paesi solidali con la Gran Bretagna si è unita anche l'Italia. In una nota infatti la Farnesina ha fatto sapere di aver deciso di espellere entro una settimana due funzionari dell'ambasciata russa a Roma. Una decisione che non piace a Matteo Salvini. Secondo il segretario della Lega isolare e boicottare la Russia, rinnovare le sanzioni economiche ed espellerne i diplomatici non risolve i problemi, anzi li aggrava.